Erano circa le 12 quando un 49enne nato a Venezia ma residente a Marghera ha perso la vita sul posto di lavoro. Stava effettuando un intervento di manutenzione ma per cause ancora al vaglio dei tecnici dello Spisa, gli intervenuti sul posto è rimasto schiacciato da un manufatto di ferro all'interno della fonderia Flag SRL di via Mattei a Marcon. Sul posto è intervenuta tempestivamente l'ambulanza ma i tentativi di salvare il 49enne si sono rivelati vani. Poco dopo sono giunti supporto alle operazioni anche i vigili del fuoco insieme ai tecnici dello Spisa e ai carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 49enne era un operaio di fonderia esperto tornato alla Flag di Marcon meno di un anno fa dopo aver provato un'esperienza lavorativa differente. Una disgrazia scrivono i sindacati che avviene a qualche mese dalla morte di un altro lavoratore della DR Costruzioni di Maerne e alla vigilia dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale. Per questo FIM, FIOM e WILM di Venezia proclamano altre quattro ore di sciopero per la giornata di giovedì.